Partirò in questo mio intervento da una vicenda lontana nello spazio e nel tempo da noi per poi arrivare rapidamente al nostro presente, all'importanza di un'azione meditata, di un'azione basata sul pensiero. Parto dalla Grecia classica dove Aristofane, il commediografo Aristofane, diede all'opera un testo molto importante che si chiama Il Pluto, che narra essenzialmente di come ad Atene, in chiave comica naturalmente, gli Atenesi si lasciarono sedurre dalla proposta del Dio Pluto, il Dio della ricchezza, a tributare al Dio stesso ogni tipo di venerazione. Gli Atenesi scelsero improvvisamente di consacrarsi al Dio della ricchezza Pluto. Vi è una scena molto bella di Aristofane che raffigura come gli Atenesi sfilano verso l'Acropoli e lì sostituiscono alla Dea Atena, la Dea della democrazia atenese, sostituiscono Pluto, il Dio della ricchezza. Ecco, questa scena che per l'immaginario greco destava sonore risate, evidentemente, diventa oggi una scena di ordinaria quotidianità per l'uomo in balia del nostro presente, se consideriamo il fatto che effettivamente il nostro tempo sembra aver realizzato in forma tuttavia tragica più che comica la vicenda narrata da Aristofane. Se è vero come è vero che abbiamo consegnato la democrazia nelle mani della plutocrazia, come anche la lingua italiana chiama l'archè, il potere di Plutos, del Dio della ricchezza. E in effetti oggi il potere è consegnato nelle mani dei mercati, delle decisioni dei mercati, alle quali decisioni tutto deve essere subordinato. Mi pare che così si possa inquadrare genericamente con la visione di Aristofane il segno della nostra epoca, l'epoca del governo dei mercati, l'epoca della post-democrazia, come è anche stata definita, l'epoca in cui di fatto si è imposto un principio, a mio giudizio, assai periglioso, che è quello secondo cui in ultima istanza dover decidere sono i mercati, con annessi i tecnici, i tecnici essendo coloro i quali governano per i mercati. Aveva ragione Michel Foucault quando definiva il neoliberismo come il governo per i mercati, in ciò distinguendolo dalle forme canoniche di potere moderno in cui si governava variamente il mercato. Il neoliberismo è la forma di governo in cui si governa per i mercati. Ecco perché il neoliberismo, parafrasando ancora Foucault, potrebbe intendersi altresì come l'epoca in cui non vi è government ma vi è soltanto governance. La differenza tra il government e la governance sta esattamente in questo. Il government implica la sovranità della scelta politica, la decisione politica che si impone e che all'occorrenza riesce anche a determinare, a governare, a disciplinare i mercati. La governance invece allude, come un nessico non neutralmente tratto dal mondo dell'impresa, che la governance è quella dell'impresa, non della politica propriamente, la governance allude invece, dicevo, a un governo per i mercati. È il modo con cui il mondo tutto diventa un unico mercato che deve essere gestito secondo la razionalità neoliberale di tipo budgettistico, spending review, amministrazione razionale, cioè tagli alla spesa pubblica, i salari e mille altre amenità del lessico neoliberale, che sempre naturalmente presenta le cose con nomi invertiti. Si parla di riforme quando più propriamente sarebbe opportuno parlare di controriforme regressive. Si parla di razionalizzazione della spesa pubblica quando semplicemente si tratta di ridimensionamento della spesa pubblica e così via. Ecco, questo scenario si caratterizza non soltanto genericamente per essere post-democratico, e qui valgano le riflessioni svolte da Colin Crouch, post-democracy, ma si caratterizza anche per un paradosso, se ci pensate. Il paradosso che oggi più che mai si sta imponendo è quello secondo cui la democrazia, che finora valeva come principio formale e non sostanziale, intendiamoci, la democrazia intesa in senso proprio sarebbe la facoltà di un demos e quindi di un popolo connotato nel tempo, nella storia, nello spazio, una comunità politica, di autodeterminarsi nelle questioni fondamentali della politica, dell'economia, della società. Già questo non esisteva, intendiamoci, esisteva ancora una forma, possiamo dire, procedurale della democrazia. Ciò che veniva chiamato le elezioni, molto banalmente, con cui si rispettavano delle forme, c'erano dei principi che venivano rispettati e questo serviva anche a dissimulare l'assenza sostanziale di democrazia. Ecco, io credo che stiamo superando anche il formalismo della democrazia. Credo che stia sparendo non soltanto la sostanza che già non vi era, ma anche la forma propriamente democratica. Si sta imponendo una espertocrazia niente affatto neutra. Già da tempo regna sovrano in Occidente il principio secondo cui di alcune questioni fondamentali non deve essere il demos a decidere, ma devono essere gli esperti. Che siano le task force, che siano i comitati tecnici, che siano i tecnici in quanto tali, sta prevalendo un'idea, a mio giudizio, nuova da un certo punto di vista degli ultimi anni ed è l'idea secondo cui il popolo intrinsecamente è incapace di governare. Il popolo in quanto tale è composto da una rozza massa di individui che non hanno studiato, che non ha competenze e che in quanto tale deve essere tenuta a latere rispetto alle decisioni fondamentali. Il paradosso non detto ma chiaramente visibile è che per garantire il retto funzionamento della democrazia vi sarebbe bisogno di meno democrazia. Per far funzionare la nostra democrazia vi è bisogno di meno spazi di democrazia intesa come sovranità popolare. Ecco, questo è un primo aspetto interessante sul quale vale la pena richiamare l'attenzione. Si badi però che non è soltanto un tempo post-democratico quello che si sta configurando, è anche un tempo post-politico in quanto tale. La formula il potere ai tecnici, e come già altra volta ricordavo dietro ogni tecnico c'è un banchiere e dietro ogni esperto c'è un ortodosso esponente della classe neoliberale, un top manager di rigorosa fede liberista. Ecco, oltre a questo nella formula tutto il potere ai tecnici c'è anche uno svuotamento integrale della specificità della politica e della decisione politica. Perché tutto il potere ai tecnici significa delegittimare in quanto tale la politica come professione, pretendendo che siano invece i tecnici a governare. E chi sono i tecnici? I tecnici sono coloro i quali altra funzione non hanno se non garantire la governabilità. E che cos'è la governabilità? La governabilità ridotta alla sua funzione essenziale è il funzionamento dei mercati senza gli impedimenti della politica. Questa è la governabilità di cui tanto si parla. Fare in modo che i mercati rispondano alle... che i governi rispondano alle esigenze dei mercati. Essendo perciò stesso delegittimato ogni governo che non sia market friendly, come usa dire, che non sia amico dei mercati, che non risponda alle sollecitazioni dei mercati e che alle occorrenze non risponda alle esigenze stesse richieste dai mercati. Non è passato molto tempo da quando un grigio burocrate di Bruxelles disse i mercati insegneranno agli italiani come votare. In quella frase era cristallizzata non certo una frase insolente e fuori contesto, ma l'essenza stessa della nuova politica neoliberale che stiamo vivendo. Insomma, il nostro è un tempo di post-democrazia e di post-politica. la condizione neoliberale si caratterizza esattamente per l'eclisse della politica insieme della democrazia e quindi anche per l'eclisse della sovranità popolare. Tutto ciò produce uno scenario a tratti inquietante che è quello che io personalmente vado da tempo definendo dell'alternanza senza alternativa. Oggi la politica sta vivendo uno svuotamento integrale della decisione sovrana e si sta ridefinendo come un finto pluralismo in cui i plurali per un verso nascondono il monocromatismo assoluto del mercato. Proprio come dietro l'arcobaleno innalzato a simbolo cromatico della civiltà dei mercati si nasconde il grigio dell'alienazione, dello sfruttamento e della reificazione, così dietro il pluralismo polipartitico, oggi imperante, in realtà abbiamo graniticamente garantita la figura del partito unico del capitale, il partito unico della globalizzazione, il partito unico del liberismo che si diversifica proditoriamente mediante figure plurali le quali però tutte ripetono il medesimo messaggio. Allora il paradosso è quello di un pluralismo in cui i plurali tutti ripetono il medesimo messaggio, questa è l'essenza della condizione neoliberale o se preferite un pluralismo in cui i partiti si contendono il posto al governo per andare ad attuare cadavericamente le riforme volute dai mercati. Questo è il paradosso ed è proprio rispetto a questo paradosso che Ancora Italia per la sovranità democratica nasce come presa di posizione critica. Mi sia consentita una breve cronistoria di Ancora Italia per chiarire l'esigenza di un partito, ancora un partito, ecco ancora un partito come sempre viene ripetuto quando si annuncia la nascita di un nuovo soggetto, proprio perché siamo figli di questa esperienza del finto pluralismo in cui in effetti viene percepita come irrilevante l'esistenza o la fondazione di un nuovo partito. Ancora Italia nasce all'indomani della catastrofe giallo-verde consumatasi nell'estate del 2019 che segna quella che potremmo anche definire la grande restaurazione del neoliberismo dopo il suo tentativo di resistenza da parte di un governo, quello giallo-verde, che con tutti i limiti del caso stava procedendo in una direzione che non era gradita ai mercati. Non passava giorno che i mercati non rivelassero la propria rancura verso quel governo, governo che era colpevole di non rispettare i desiderata dell'Unione Europea, di non rispettare i desiderata degli Stati Uniti d'America, addirittura osava guardare alla Cina, alla Russia, al Venezuela, un governo insomma che per varie ragioni era in viso all'ordine dominante. E fa parte l'esperienza del governo giallo-verde, almeno a giudizio di chi vi sta parlando, di quel generale moto di contestazione verso la globalizzazione che si era venuto istituendo negli ultimi dieci anni, vorrei dire. Si cominciava, dopo la bella epoch post 1989, a percepire un disagio, uso questa categoria abbastanza neutra, rispetto alla globalizzazione mercatistica. Ci si accorgeva, cioè, che il capitalismo non faceva rima con democrazia, ci si accorgeva che capitalismo e libertà non procedevano di conserva, si prendeva atto del fatto che più capitalismo non garantiva più diritti e più benessere, ma al contrario un regresso costante. Ecco allora che iniziavano a prosperare su tutto il giro d'orizzonte a livello planetario forme di contestazione rispetto all'ordine dominante, che erano forme di contestazione governativa, come il caso del governo giallo-verde, forme di contestazione nazionale popolare, come il caso delle bluse gialle in Francia, di contestazione geopolitica, anche se consideriamo l'emergenza in primo piano di attori della politica, o anzi della geopolitica globale, fermamente antagonistici rispetto alle politiche di quegli Stati Uniti d'America, che sono il braccio armato della globalizzazione mercatistica. Penso al ruolo benemerito della Russia o della Cina in un quadro di multipolarismo contro l'atlantizzazione del mondo. Ecco, in questo scenario evidentemente era giunto per una ragione o per un'altra il momento di una crisi di consenso, come potremmo chiamarla, una crisi di autorità, avrebbe detto Gramsci rispetto alla globalizzazione capitalistica. Ora, noi sappiamo che quando le classi dominanti perdono il consenso pur mantenendo il dominio, e quindi perdono l'egemonia, per mantenere a oltranza quel dominio debbono ricorrere alla violenza. Il dominio che prima era consensuale, ora non essendolo più, per garantirsi deve essere mediato dalla violenza, dall'autoritarismo, ed è quello che sta avvenendo, direi, da più di un anno a questa parte. Una ristrutturazione autoritaria del modo della produzione, che nel caso specifico italiano, a questo limito la mia analisi, ci ha portato da un governo che a torto o a ragione aveva come parole chiave della propria politica la centralità della sovranità nazionale, più Stato e meno mercato, più identità nazionale e meno centrifugazione postmoderna e globalista dell'identità, più centralità della sovranità popolare e meno decisionismo autocratico dei mercati. Ecco, ci siamo trovati da quel governo votato a torto o a ragione dal popolo italiano nel 2018, ci siamo trovati senza più passare dalle urne a un governo con, direttamente sulla plancia di comando, Mario Draghi. Esattamente l'opposto rispetto a ciò che gli italiani a torto o a ragione votarono nel 2018, senza essere passati, ripeto, per le elezioni. Del resto, come disse il Presidente della Repubblica a gennaio del 2021, non si può votare nelle condizioni di emergenza in cui ci troviamo e anche questo dovrebbe indurci a qualche riflessione ulteriore sull'emergenza come metodo di governo autoritario e postdemocratico. Insomma, noi ci siamo trovati in Italia, 2021, direttamente, senza passare da alcuna forma di elezione, con Mario Draghi al governo, prima causa di sconfitta dell'Italia e, seconda causa di sconfitta, vorrei dire, con quelle stesse forze che nel 2018 avevano promesso sovranità nazionale e popolare, meno mercato e più Stato, più popolo e meno capitale, ci siamo trovati con queste forze che si sono genuflesse rispetto al nuovo ordine delle cose, tant'è che ora governano insieme a Mario Draghi, variamente incensandolo come fuoriclasse, come professionista, come uomo esperto. Ecco, un'immagine plastica, vorrei dire, della ristrutturazione in corso delle cose. Ecco, ancora Italia nasce esattamente come fronte di coloro i quali dicono no, come coloro i quali che, i colori i quali si oppongono a questa ristrutturazione autoritaria e proseguono in direzione ostinata e contraria. Ecco perché nel nostro nome abbiamo scelto, intanto nel nostro simbolo, Dante Alighieri, che è l'immagine della cultura italiana o a dire di Giovanni Gentile, addirittura il primo filosofo italiano in senso stretto. Quindi la grande cultura italiana, l'identità culturale della nostra terra, la filosofia che parla per la prima volta italiano e poi abbiamo scelto come nome ancora Italia. Nel tempo in cui il discorso dominante va ripetendo che ci vuole più Europa, più globalizzazione, più mercato, noi rivendichiamo il fatto di essere ancora Italia e di più che vogliamo ancora Italia, contrariamente a quanti vanno ripetendo che ci vuole meno Italia e più globalizzazione. Del resto, parliamoci chiaro, ancora Italia, e fisso subito alcune coordinate, è un partito niente affatto cosmopolita e niente affatto nazionalista. È un partito che anzi si riconosce appieno nell'idea dell'internazionalismo. Essendo però l'internazionalismo quella figura altra e rispetto al nazionalismo e rispetto al cosmopolitismo, perché l'internazionalismo presuppone l'esistenza delle nazioni e quindi il rapporto solidale fra le nazioni. Laddove invece il nazionalismo si compie nel cosmopolitismo, che cos'è la globalizzazione se non il cosmopolitismo di un'unica nazione ritenuta legittima nella sua esistenza, che satura il mondo intero? Che cos'è la globalizzazione se non il nazionalismo statunitense che pretende di saturare il mondo intero? Ecco perché sul piano geopolitico, lo dico apertamente per disambiguare un punto che in questa fase noto cagionare molte ambiguità, incomprensioni, ancora Italia è per il multipolarismo e quindi ritiene indispensabile la presenza, lo dico apertamente, di una Russia e di una Cina forti, indipendenti e militarmente autonome rispetto alla globalizzazione americanocentrica, proprio perché appoggiamo ogni stato resistente rispetto all'ordine della globalizzazione, che sia il Venezuela o l'Iran, che sia la Russia o Cuba, tutti gli stati non allineati hanno il sacrosanto diritto di esistere come parti autonome e non sottomesse alla monarchia del dollaro. Quindi geopoliticamente questo è ancora Italia e vedete già che sotto questo riguardo ci sono pochi margini di manovre di collaborazione con partiti che millantano l'uscita dall'euro come propria priorità e poi si schierano saldamente sul cote filoatlantista di cui si diceva poc'anzi. Sul piano politico, strettamente politico, la parola chiave o anzi l'india di chiave è quella di democrazia e sovranità. Noi rivendichiamo l'esigenza della sovranità nazionale come base ineludibile per politiche socialiste e democratiche. Non si può praticare socialismo e democrazia se non in presenza di uno stato nazionale che intervenga nell'economia, che ponga in essere quella che il grande Hegel chiamava la capacità di limitare la bestia selvatica del mercato, che altrimenti senza l'intervento dello stato nazionale non c'è l'uguaglianza globalizzata come si illudono le anime belle multiculturali, in realtà monoculturali perché legittimano il monoculturalismo del mercato, ma c'è soltanto la tirannia del più forte, c'è soltanto appunto la tirannia del mercato e dei suoi animal spirits. Perché si diano democrazia e socialismo vi è bisogno di uno stato sovrano nazionale che intervenga nell'economia sul piano politico-economico e che garantisca un rapporto solidale fra gli altri stati nazionali e se questo è l'internazionalismo di cui dicevo. Ecco perché la sovranità nazionale viene da noi declinata in chiave democratica, detto in termini ancora più elementari, senza, potremmo dire così, lo stato sovrano nazionale può e deve essere democratico dal nostro punto di vista, l'economia post-nazionale non sarà strutturalmente mai democratica, perché sarà né più né meno che il neocannibalismo gestito dai più forti. Questo è il punto fondamentale, questo è il punto fondamentale su cui bisogna insistere. Lo stato sovrano nazionale è, mi consentirete, una vox media, perché può essere il luogo di una regressione feroce, modalità Cile di Pinochet, ma può essere anche il luogo dei diritti e del welfareismo, delle conquiste delle classi salariate e dei lavoratori, dei ceti medi e di coloro i quali rischiano altrimenti di essere spazzati via dalla globalizzazione anarco-capitalistica. Ecco perché abbiamo bisogno dello stato sovrano nazionale, non già per fare politiche regressive, ma per contrastare le politiche regressive che le classi nazionali oggi fanno superando lo stato nazionale, proprio come ieri facevano utilizzando lo stato sovrano nazionale. Bisogna storicizzare le categorie. È chiaro che lo stato sovrano nazionale ha svolto a seconda del contesto storico funzioni diverse. Come è chiaro, indubitabile, che oggi il solo modo per le classi dominate di emanciparsi è quello di valorizzare lo stato sovrano nazionale in chiave sociale e democratica, in forma welfareistica, in forma oppositiva rispetto agli animal spirits del mercato. Ecco cosa mira fare ancora Italia. Ecco perché, chiudo veramente, non vi spazio oggi per fare un fronte comune di tutti coloro i quali general genericamente sono contro. Perché nella galassia di coloro i quali sono contro si trovano categorie che non condividono nulla della nostra visione, che non condividono il piano geopolitico. È pieno di categorie che pensano che il nemico oggi sia la Cina o la Russia e in questo modo finiscono senza vedersene esattamente nelle fila del globalismo atlantista con sede a Washington, che pretende di fare del mondo intero una dependance degli Stati Uniti d'America. Per questo lo dico ad nauseam. Abbiamo bisogno oggi di una Russia e di una Cina indipendenti, forti e in grado di contrastare il delirio di onipotenza degli Stati Uniti d'America e della globalizzazione capitalistica. Abbiamo bisogno di una molteplicità di Stati non allineati. Questo è un primo punto che difficilmente passa nel dibattito pubblico. È pieno di gente che dice il nemico è la Cina. Chi pensa a questo ha sbagliato partito. È meglio che passi ad altre agenzie. Il nemico oggi si chiama sul piano geopolitico Stati Uniti d'America. Il nemico si chiama sul piano economico liberismo. Il nemico si chiama oggi sul piano politico neoliberalismo. Il nemico si chiama sul piano metafisico nichilismo relativistico. Sul piano antropologico individualismo e così via se vogliamo fare il gioco dei nemici. Del resto in politica, diceva Carl Schmitt, la dicotomia è tra amico e nemico e quindi bisogna anche avere l'onestà e la coerenza di individuare i propri nemici. E qui chiudo. Ecco perché abbiamo bisogno più che mai di fare chiarezza anzitutto. Di fare chiarezza perché altrimenti si rischia di costruire un'armata brancaleone che non ha le idee chiare, non ha una visione. Ancora Italia ha una visione strutturata. Noi non siamo il partito single issue. Non è il partito che vi propone la famiglia e basta. L'uscita dall'euro e basta. La cura di stanze pur importanti ma singole. Noi siamo una visione del mondo. Questo è il punto fondamentale. Una visione strutturata, culturale, che assume la filosofia come base di un processo di redenzione. Ecco qual è il punto fondamentale. Su questa base si può costruire qualcosa. Noi non cercheremo mai di fare semplicemente una sorta di massa critica. Preferiremo invece creare una egemonia culturale lavorando culturalmente su quanti vorranno seguirci. Se mi consentite una battuta abbiamo bisogno di militanti e non di militonti. Abbiamo bisogno di persone che si innalzino con la cultura. Non parliamo semplicemente alla pancia di. Cerchiamo di tenere in considerazione il fatto che gli uomini hanno una pancia, certamente, ma anche una testa. E la difficoltà sta nel raccordare la pancia alla testa. Questo è il compito fondamentale della cultura. Non fingere che la pancia non ci sia, come pensano alcune anime belle dei salotti contemporanei. Accordare la pancia alla testa. Questo è l'obiettivo fondamentale. Siamo in una situazione al tempo stesso difficile e facile. Difficile perché siamo nel bel mezzo di una repressiva restaurazione che ci sta limitando financo il diritto di accesso alle piazze reali e presto anche alle piazze virtuali. Grazie alla violenza senza volto degli algoritmi e della cosiddetta intelligenza artificiale. Stiamo assistendo anche a un'ulteriore difficoltà che è quella, come dicevo, di una svolta autoritaria in atto, che reprime e al tempo stesso nega quelli che fino a ieri erano considerati diritti insindacabili. Ma è anche una condizione di facilità la nostra, perché manca un fronte vero dell'alternativa. E quindi si tratterà di coordinare, citando il Gramsci delle tesi di Lione, si tratterà di coordinare e riunire tutti quelli che per una via o per un'altra sono giunti alla rivolta contro il capitalismo. Raccoglierli e coordinarli verso una visione democratica e socialista. Questo è il nostro compito.